Salve a tutti gente di internet, qui è Lucando47 che vi parla E bentornati su Lucando47 giustamente Allora, a parte che sembro FabiJ con ste cuffie E ve lo dico, per i fan, per i fan a cui piace FabiJ Io non lo sopporto, mai sopportato lo odio Mi ricordo che lo guardavano i miei cugini quando erano più piccoli Ma mai sopportato onestamente Comunque, siamo qui in questo video fantastico Ma non tanto fantastico che lei Riferimento dal Johnny Jack E dopo tanto tanto tempo ragazzi Come avete visto il titolo del video Del titolo che metterò su Youtube appena finisco di registrare e montare Il ritorno al reaction Ma questa volta non è una reaction di un mio vecchio video di tanti tanti anni fa 2013, 2014 E' una reaction di un video a cui giocavo e che fa riferimento a quei video E' un videogioco in cui sono cresciuto Left 4 Dead Il secondo trailer di Left 4 Dead Perché il primo era la beta Potrei far quello ma sarebbe troppo corto Però questo è il secondo Ma sarebbe il cinematic video Il cinematic trailer Cioè il trailer cinematico Quindi 4 minuti abbondanti Ve ritornati in questa nuova reaction E godetevi il video Pure con la webcam Favij Mi fai un baffo Tvovex After first infection Questo come lo direbbe Mauro Ah la famosissima mano del gioco Che rappresenta il 4 Il 4 di Left 4 Dead O come lo dicevo da bambino A sinistra 4 morti Ragazzi vi giuro Io da bambino Left 4 Dead Lo traducevo in A sinistra 4 morti Giuro che non sto scherzando Cioè Unchia La witch Zoile indistruttibile Beh ricordi con Luigi E mo so cacchi Mo mo so cacchi ragazzi Tenta Non guardare Non guardare fisso Non guardare fisso Non guardare E mi ricordo ancora Quando Ero piccolo E rompevo le palle Al mio padre Che volevo i sottotitoli Di questo trailer E poi alla fine Mi l'ha installati Ma Parliamo di 15 anni fa E cioè Ah la sorda La sorda Eh lorda Lorda Non la sorda La sorda Lo diceva la madre Di mio vecchio amico Mica che è pervertito Che sei il smoker Madonna Stai slinguazzando Bill Mio dio Merry Christmas Buon Natale Ecco qua Zoe sta usando Il pipe bomb Tubo bomba Che sicuramente Zoe Non è un bot È un giocatore Si è scoperto In questo trailer Che è un giocatore Perché il bot Non sarebbero mai Gli esplosivi Quindi Forse anche per quel motivo Il karma Arriva il karma Dieme Dammo Dai D'avversario Dai Ecco A lui Se sono io E il karma È topo E poi arriva Zoli indistruttibile Che serve Luigi Ah Questo Sì 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 Ma sono cavoli Sono cacchi due Due volte cacchi Però questi Sono molto più grossi Adesso arriva Il pezzo forte Il tank Si direbbe tank Ma io sono abituato A dire tank Quindi Poi non è che cambia molto O come direbbe uno Che non sa l'inglese Il carro armato Tank vuol dire Se il carro armato Che il serbatoio E quindi A posto Ah beh ricordi Quando giocavo Anch'io da bambino A Left 4 Dead 1 Quando si pensava I miei amici Pensavano che Che giocando col tank In modalità avversario Potevi prendere In mano I survivor O gli infetti E scaraventarli Cioè però Ti puoi scaraventare Ma a pugni No ma sarebbe stato figo Se magari Facevi come Nel gioco di Hulk Del 2003 Li scaraventavi Così direttamente Dove volevi Ed è così Che Zoe Perce la seconda pistola Dai Dai Francis E Zoe Baciatevi Che è l'unica cosa Che volete Anche se Onestamente Francis Su Left 4 Dead 2 La tradisce Zoe Perché lui Si innamora di Rochelle Che Rochelle È il survivor Più stupido È l'unico survivor Inutile Però E così comincia No mercy Nessuna pietà Fuori da letto No mercy Cioè Nessuna pietà Vabbè Bene ragazzi Reaction Abbastanza Non tanto lunga Né tanto corta Ho solo Ho voluto fare Sto video Perché era tanto tempo Che non le continuavo E niente Spero che la prossima Non la farò Tra due anni e mezzo Come la scorsa Perché se non sono Passati due anni Però vabbè E niente È finito qua il video Spero che vi state divertiti Come mi sono divertito Anch'io E spero di tornare Con la prossima Reaction Spero il presto possibile Perché sono Divertentissime È uno È uno dei miei Contenuti preferiti Di youtube Che è Da quando il canale Ho cominciato Solo due anni fa Più o meno Con le reaction Due anni fa Sì E niente Buona serata Bye Lucando47